Per la tua informazione su tutti gli eventi, le news, gli indirizzi utili, il territorio, consulta magazze.it Collegati online, magazze.it Un giorno importante per Casteltemmini, un giorno particolare, oggi abbiamo l'inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri. È sicuramente una giornata eccezionale vissuta intensamente dalla nostra popolazione perché è un evento che si è caricato di grande importanza per la presenza di tantissime personalità della regione, della provincia, l'arma dei Carabinieri. Che ringrazio per aver scelto Casteltemmini, per la loro presenza che hanno garantito, la fanfara, il plotone d'onore, insomma hanno fatto tantissimo. Per noi è un momento importante perché noi vogliamo ricordare Niccolò Cannella che a 21 anni nel fiore della sua giovinezza ha perso la vita per dare soccorso a Gibellina nel terremoto del 68. Vogliamo che lui sia l'esempio per le giovani generazioni.